Ciao ragazzi, eccoci qua per un nuovo video. Materiali per elmetti, a rigenerare elmetti. Abbiamo vari telini, retine, cinghie, sogoli, laccetti di cuoio, telini vari tipi, vari colori, retine vari colori, altri telini, telino moderno camo, poi abbiamo il sogole, vari rivetti, tutti originali questi, rivetti in forma campioni, originali, attacchi per i sottocola, i socoli, se volete aggiornamenti ragazzi iscrivetevi al canale, ciao raga.